La nostra campagna è per la sicurezza sul lavoro. Il più grande cantiere aperto ora a Milano è quello per l'Expo. Qui finora non sono accaduti incidenti gravi, forse anche perché è il cantiere su cui c'è la maggiore attenzione. Come va la sicurezza sul lavoro? Bene, bene, grazie. Cosa vi danno per la sicurezza sul lavoro? Tutto. Tutto quello che serve, mascherine, le guanti, tutto quello che serve, i caschi. Voglio sapere il miracolo del cantiere sicuro. Qui è stato fatto effettivamente uno tra i migliori accordi che siamo riusciti a fare perché non erano contenti quando noi gli abbiamo presentato quella richiesta di protocollo legata alla sicurezza. Non erano così euforici, ma come la CMC, parliamoci chiaro, non erano euforici sotto questo punto di vista. Che vuol dire costa di più quella... Eh beh, certo. Ho visto l'attrezzatura di sicurezza, il caschetto, poi cosa avete? Le centure, le arve. Ci imbragano, ci legano tutti. Ci sono più gente che controlla che quella che lavora. Su serio? Sì, sì, sì. Non tutti coi caschi. I numeri sono una sessantina di infortuni, ma che si parla di, questi sono documentati, solo sette infortuni con una prognosi intorno ai 30 giorni. Noi che siamo abituati a avere purtroppo i morti nel cantiere, in un cantiere di queste dimensioni, è chiaro che noi vogliamo ottimizzare e avere zero. Però... Il caschetto ce l'ha. E poi le scarpe di sicurezza, mi fa vedere. Oh che bravo! C'è tutto, poi? I guanti. C'è tutto. Perché dicono che buono... C'è pure la testa, c'è. Eh, ci vuole. Pure la testa ci vuole. La ricetta. Controlli tecnici e formazione. Formazione. Formazione specifica per il cantiere. On the job. Cioè sul posto. Questo è importante. Sinceramente è la prima volta che lavoro in cantiere. Non mi è lavorato. Prima ho fatto metalmeccanica. Adesso mi trovo qua. Basta che si lavori. Qualifiche alte, cantiere più sicuro. Qualifiche basse, cantiere più economico. Abbiamo saputo e abbiamo fatto colloquio di persone che avevano addirittura il quarto livello di professionalità. Loro hanno cercato di dire, ti riprendiamo se il livello è... Se ti accontenti di un livello inferiore. Qualcuno ha accettato, qualcuno non ha accettato. Rischi potenziali. Fretta per il ritardo e cantiere affollato. Saranno molte persone a lavorare. Che previsione c'è? Dipende, in piastra, anche un migliaio di persone.